Ha delegittimato Gratteri e sarà allontanato e questa è la decisione che il CSM ha preso circa il trasferimento a Torino del procuratore generale di Catanzaro Tello Lupacchini, il quale, lo ricordiamo, era finito davanti alla prima commissione dell'organo di autogoverno delle Toghe per aver attaccato il procuratore capo del capologo calabrese in televisione. Successivamente all'operazione anti-indrangheta, rinascita Scott, che ha portato all'arresto di 330 persone, in un intervento su Tgcom24 aveva accusato Gratteri di condurre inchieste evanescenti e di non averlo avvisato dei blitz. Parole queste che hanno avuto un eco mediatico non indifferente, al punto che sia area, associazione dei magistrati progressissi, che magistratura indipendente si erano mobilitate a chiedere una pratica contro Lupacchini a tutela di Gratteri. Il legale di Lupacchini ha affermato che il suo assistito ha subito ingiustamente un trasferimento d'ufficio lontano dal distretto nel quale ha con disciplina e onore semplicemente cercato di esercitare le proprie funzioni. Appare evidente che al dottor Lupacchini non sia stata semplicemente applicata una misura cautelare, quanto una vera e propria anticipazione di sanzione, oggettivamente e severamente punitiva, oltre che ostile, avendo disposto il trasferimento del magistrato con perdita delle funzioni direttive a 600 km di distanza dalla città di Roma e oltre 1000 km da Catanzaro. Non solo, nell'ordinanza non si dà conto né degli argomenti spessi dalla difesa in materia di libertà di pensiero e di sua libera manifestazione, determinando uno sconcertante precedente idoneo a limitare si fatta libertà con riferimento agli appartenenti all'ordine giudiziario, né della sproposizione tra la misura applicata e la sanzione finale applicabile.